C'è una novità. Non ve ne ho parlato subito perché all'inizio non ero sicuro neanche io. Di cosa tesoro? Ti ricordi Mario? Quella persona che hai conosciuto qualche giorno fa? Il tizio inquietante. Non è inquietante, anzi è una persona molto importante per me. Perché ho scoperto che Mario è la reincarnazione di papà. Ah ma allora dobbiamo festeggiare. Maria, puoi portare quella bottiglia di champagne che sta nel frigo? Scusa, puoi ripetere? Mario è la reincarnazione di papà. Non sono pazzo, so quello che dico. Ho avuto tante conferme di questa cosa. Magari buonasera potremmo invitarlo a cena. Mi farebbe piacere che lo conosceste. Caterina, potresti passarmi l'aceto balsamico? Tieni caro. Grazie. 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 Grazie a tutti.